buongiorno professor mezzalama buongiorno professor meo allora mi è stato dato ciao l'onere onore di introdurre e coordinare questo panel sul software libero con due colonne del software libero torinese allora iniziamo con con il professor meo professor meo piace dire che è il nonno del software libero in italia se salman è stato il padre del software libero nel mondo il professor meo è stato il nonno del software libero in italia professore merito del politecnico ormai in pensione ha svolto un ruolo fondamentale nel processo di avvicinamento del software libero alla pubblica amministrazione al software libero come credo ci racconterà in questa sua presentazione do subito la parola perché preferisco lasciare più tempo agli interventi nel senso che nei primi anni di vita dell'informatica il software libero e veniva dato gratuitamente generalmente incorporato dentro l'alber al metà del secolo scorso è cominciata anche la storia del software ed è cominciata la storia del software proprietario si è cominciato a vendere del software coperto la licenza passiamo a lucido successivo è dedicato alla cultura hacker che ha avuto la sua importanza nello sviluppo della cultura del software libero e passiamo ancora lucido successivo che rappresenta la vera storia di quella che viene considerata la storia del software libero il principale protagonista che vedete il ritorno nel 1985 richard storm era uno dei tecnici che avevano il compito di fornire i servizi diretti diciamo così di stampa eccetera del leggendario massacusso di situato tecnologico un certo giorno ha constatato che la stampante era probabilmente una stampante di uno il paccaro se ricordo bene che la stampante aveva delle funzionalità che non rispondevano alle esigenze e queste funzionalità potevano essere migliorate e così il richiesto non decise di modificare il software di gestione nella stampante si rese conto subito che il software era molto difficile si collegò allora l'azienda chiedendo di vedere il codice sorgente e la gestione della stampante l'azienda gli ha rifiuto l'autorizzazione e gestione comprese che il software proprietario costituiva un grosso problema per lo sviluppo del software in genere e così si dimise dall'emmiti e giustizioni e fondò la free software con alcuni amici che si diede come primo obiettivo la realizzazione del software simile agli unix unit compatibile e il sistema operativo in sostanza della macchina diede a quel software un cognome secondo la regola che apparteneva appunto la cultura cioè la parola blu che il nome che viene dato a quel software la parola blu a tre lettere gnu che compagno nella frase più is noti unix come dire il blu il sistema operativo di questa macchina non è lui unix del mercato ma è compatibile con unix incidentalmente osservate l'immagine è un'immagine standard che lo rappresenta nelle viste con cui spesso si presenta i convegni delle vesti di sant sant ignutius sant ignutius come testimoniato dalla superficie ardiva di un artiste la prima generazione che lui si mette in testa a simboleggiare l'aureola richiesto ma vediamo il lucido successivo si occupa anche dell'ideologia del software libero piccoli assunta l'ideologia rivoluzionaria del ricestorno free software è una questione di libertà non di prezzo ossia il software libero può essere oggetto di transazioni economiche può essere comprate vendute sul mercato tuttavia deve essere sempre venduto col codice sorgente aperto in modo che l'acquirente porta modificare dei software copyright e dice la seconda capoverso copyright è una violazione del diritto della conosce alla conoscenza dei cittadini e scoraggia la collaborazione tra i cittadini il software non libero cioè il software proprietario è dannoso dal punto di vista della formazione la competizione sul mercato produttive inutili duplicazioni di risorse questa l'ideologia rivoluzionaria le c'è storm al suo popolo grazie di giusto anche della questione delle licenze la questione estremamente complicata e come vedremo dall'intervento di marco giulcina e un terzi e ulteriormente complicata comunque sin dall'inizio appare che la questione delle licenze poteva essere rappresentata su una grande torre di babele al gradino più basso troviamo il software proprietario quello standard poi subito sopra il firmware che il software gratuito ma del quale non è disponibile il codice sorgente e quindi non corrisponde alle esigenze di molti utilizzatori e poi al lato opposto della torre troviamo dapprima il top left il diritto di copia di sinistra questa è una denominazione inventata da riccia strana come alternativa rispetto al copyright il diritto di copia di destra il copilato vuol dire il diritto di modificare il codice sorgente infine all'estremo sopra il pubblico di miglio dove tutto è rigorosamente libero non soltanto dal piano economico dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista scientifico tecnico il lucido successivo rappresenta linus torvalds 1991 era loro studente ventunenne dell'università di elsinki in tutto il tempo che era trascorso che lui non aveva visto la luce perché sto ma ogni tanto nel corso dello sviluppo si innamorava di una linea nuova bloccava lo sviluppo per passare ad un nuovo progetto e così via linus torvalds insieme ad alcuni amici risolta il problema nel senso che realizzò il software di un sistema operativo di unix compatibile accettò una licenza di stolman licenza copi testa per questo oggetto che prese il nome su richiesta dei suoi amici esattamente di linux nella figura vedete anche il pinguino che il simbolo di linux il primo di una lunghissima serie di prodotti del software libro che annoverà oggi come vedremo dall'intervento di marco mezzalama che annoverà oggi centinaia di migliaia di prodotti diversi il lucido successivo è dedicato alla storia in vero vedremo una storia triste nel software libero nel nostro paese una storia che inizia come vediamo nel lucido successivo quando lucio stanca ministro del secondo governo berlusconi costituisce la prima commissione incaricata indicare sulle opportunità rappresentate dall'avvento del software libero della pubblica amministrazione centrale periferica e non una commissione composta da una ventina di ricercatori alcuni con conoscenze giuridiche come marco giusto una commissione che fu presieduta proprio da me quella commissione come vediamo nel lucido successivo affrontò subito tre indicazioni tre argomentazioni che aveva proposto da microsoft per affermare la superiorità del software proprietario e mettere in evidenza i difetti del software libero la prima situazione riguardava quello che ancora oggi si chiama il total cost ownership il costo totale del possesso ossia la microsoft sosteneva che il costo dei tecnici necessari per l'installazione la manutenzione gli aggiornamenti e così via il costo quindi per l'assistenza tecnica e più alto è il costo delle licenze noi si sviluppano alcune concentrazioni esaminato alcuni casi e arrivano ad una conclusione opposta sia il posto delle licenze era nel nostro giudizio parla degli uomini della commissione prevalente rispetto al costo dell'assistenza vediamo il lucido successivo nel quale rappresentata la seconda argomentazione della microsoft la microsoft sosteneva che siccome il codice sorgente deve essere sempre presente nei prodotti del software libero la presenza del codice sorgente consente anche del crack maggiore facilità per entrare un sistema e quindi il software libero voleva dire secondo la microsoft di sicurezza noi arriviamo alla conclusione opposta il lucido che vedete uno dei lucidi che usai nella presentazione e risultati del nostro lavoro proprio al ministro che diceva appunto quel lucido e al nostro giudizio la sicurezza di un gattino in un canile inferiore a quella del sottolibro ebbene le nostre argomentazioni erano basate su principi scientifici che risalivano che risalvano addirittura il barone kerchoff uno dei massimi esperti di criptografia che nel 1883 scrisse la sicurezza attraverso all'oscurità cosiddetta sto c'è più di di trucco scuriti il sberbe e negativa con i sistemi di calcolo così come con le donne inutili che noi maschietti con le nostre fidanzate con le nostre mogli trinceriamo dietro la cortina fumigina dei non so non ricordo poi ti spiego perché le donne sono più intelligenti di noi e quindi ci cucano sempre nello stesso modo non c'è oscurità che si che possa essere salvata da hacker qui iniziano le richieste che abbiamo formulato al ministro le prime richieste il software custom cioè il core software non del software di base non nel sistema operativo non il sistema di comunicazione ma il software per risolvere un specifico area applicativa esempio una grafe nel software custom appartiene alla pubblica amministrazione e quindi deve essere venduto una volta sola un software sviluppata per il ragione e piemonte e pagato regolarmente dalla regione piemonte può essere utilizzato liberamente senza ulteriori spese dalla regione liguria e dalla regione lombardia e nel sicilia e così via seconda richiesta da vediamo nel l'ultimo successivo era emerso in quel tempo che il leggendario windows nt conteneva una backdoor una porta di servizio la terza richiesta che noi formiamo al ministro era quella dell'assoluta trasparenza degli standard di interoperabilità tra i diversi software diversi sistemi collegati e quindi il mio con la nostra conclusione era tremonti e veltroni tremonti era ministro veltroni il sindaco di roma devono parlarsi in xml xml era un linguaggio molto trasparente che dominava a quei tempi notate in questa margine che le sigle rappresentano sì unità organizzative sia unità tecnologiche quindi mf il ministero delle finanze quello che abbiamo attaccato il dinosauro e il ministero delle finanze ma anche il main frame il grosso calcolatore pc e il povero comune che in verità non si applica tanto il comune di roma ma non importa ed è anche il personal computer cm e il cellulare multimediale ed è anche la comunità montana quella l'interoperabilità come vedremo appunto dalla relazione di marco ciocci ma è una delle questioni più importanti del lavoro della commissione il ministro dedusse il cosiddetto articolo 68 del cosiddetto codice dell'amministrazione digitale o cad quell'articolo 68 disse che le pubbliche amministrazioni possono acquisire i programmi informatici compresi i programmi a codice sorgente aperto compreso software libero a seguito però di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico una cosa che a noi piaceva poco a e non interessava solo il costo delle licenze secondo punto le pubbliche amministrazioni adottano soluzioni informatiche che assicurano l'interoperabilità e che consentano la rappresentazione dei dati e dei documenti in più formati di cui almeno uno di tipo aperto la commissione all'unanimità aveva deciso solo prodotti che prevedano standard di intercomunicazione di tipo aperto qui invece almeno uno di tipo aperto che vuol dire fai esattamente quello che voglio vediamo il lucido successivo ancora incidentalmente il ministro aveva fatto il suo nel conclusione delle argomentazioni della microsoft probabilmente per salvarsi da quella che mi piace chiamare la maledizione di bill tutankamio un qualunque politico che qualunque tipo titolo ti occupi di software libero un atteggiamento favorevole secondo questa maledizione se non prima poi ma generalmente prima del credibile è destinato a comparire politicamente ora il ministro si era impegnato precedentemente in una battaglia contro la microsoft a livello comunitario di forse temeva la maledizione e per questo affidò l'incarico di redigere quella legge quel testo che legge la microsoft a funzionare molto vicini alla microsoft comunque i risultati del punto di vista economico non furono buoni un paio d'anni dopo come mostra questo lucido la bilancia commerciale del nostro paese nel punto di vista del software era terribilmente negativa registrando importazioni per una cifra dell'ordine di 3 miliardi di dollari e le esportazioni praticamente inesistenti proprio in considerazione di questo alimento dal punto di vista concreto il ministro successivo uno dei ministri successivi il ministro nicolaes costituì una nuova commissione che ancora una volta io presiedete col compito di dare delle norme precise concrete per fare in modo che il software libero venisse adottato nelle pubbliche amministrazioni vediamo quali furono gli obiettivi che ci furono definiti vediamo anche la senatrice magnolfi che non conoscete perché anche lei è stata colpita da biltu tan camion e senatrice magnolfi ci seguì nel nostro lavoro produce un grosso lavoro enorme lavoro di alcuni mesi soltanto per produrre e correggere l'apporto finale chi riunimbo in clausura per alcuni giorni in quel di roma e alla fine produceva un rapporto di oltre 350 pagine con una serie di enorme di linee guida per favorire la diffusione del software libero sfortunatamente il governo nel frattempo cadde il ministro nicolaes fu sostituito dal ministro brunetta il quale vide porto disse che la questione non era per lui di nessun interesse si rifiutò almeno così mi hanno detto di ricevere e di conseguenza il nostro rapporto frutto di tanto lavoro fini in un cestino e non se ne parla mai più questo è l'ultimo esempio di storia antica del software libero perché poi la storia moderna passerà a marco giugina un paio di peones nel corso dell'estate profittando dell'assistenza o della sommarenza dei colleghi piacero partire passare al parlamento una legge per noi del scopo libero fantastica che disse che l'uso di software di licenza di solito al proprietario sarà possibile solo quando la valutazione comparativa abbia dimostrato l'impossibilità di accedere a soluzioni in solito libero ho già sviluppato dalla pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore in sostanza quindi quello che costa diceva quella legge è il costo della licenza ma immediatamente ovviamente o poco dopo insomma il ministro mario monti che era stato anche lui nella lista nera di built tant camion il ministro mario monti e scrisse una nuova legge che faceva riferimento al costo dalla sicurezza e così via che è praticamente la ripetizione dei tre principi di base sui quali sosteneva sui quali sosteneva la microsoft stava la debolezza del software libero rispetto al software proprietario e quindi finisce la mia storia antica diciamo così il software libero che però proseguirà subito dopo tra un attimo per opera di marco giurcina credo che il mio tempo sia scaduto non ho guardato l'orologio avevo preparato due luci di ancora sull'ardo e vero che non abbiamo tempo di vedere arlo e libero e dedicati a arduino una linea di prodotti nati a poca distanza da questa città in quelli per opera di alcuni ricercatori alcuni insegnanti una linea di prodotti che sono hardware libero e che come alber libero sono stati acquisiti dai cinesi erano qualcosa come alcune centinaia di migliaia di oggetti diversi dalle cpu e diversi sensori e attuatori se controllate l'orologio chiedo scusa marco chiusa se li ho portato via del tempo allora siamo un po in avanti nel tempo però direi che riusciremo a recuperare cedo la parola al professor mezzalama altra colonna ma fondamentale dell'informatica pubblica torinese ha giocato un ruolo anche importantissimo nella storia del software libero anche in questa città e professore merito del politecnico a te la parola ma io volevo prima che marco ciurcina finisse la sequenza della storia e chiudesse questa nostra chiacchierata sul software libera fare una panoramica su quello che è un punto di vista economico e ambientale allora una considerazione iniziale è che la produzione del software alla fine degli anni 80-90 è diventata una produzione non più di nicchia ma una produzione di largo consumo questo ha sostanzialmente prodotto il fatto che il software si è diventato una per l'appunto una produzione di massa e come tutte le produzioni di massa dal punto di vista economico industriale questa ha determinato una concentrazione in grandi produttori che erano produttori sostanzialmente di software proprietario e questo ha determinato un monopolismo tecnologico a livello mondiale per cui sostanzialmente è una decina di aziende governano il 90 per cento del software disponibile questo ha creato delle criticità sul sistema produttivo del nostro paese perché ha emarginato il ruolo delle piccole e medie imprese e dall'altra parte non ha permesso una diffusa cultura tecnologica che è un elemento determinante per la capacità di un paese di stare allineato alle evoluzioni tecnologiche che in questo settore sono estremamente rilevanti vorrei fare alcune considerazioni quantitative già accennate dal professor meo tenete conto che da una ricerca assin form il costo delle licenze italiane verso società straniere e di circa 2 miliardi quindi una cifra considerevole che non ci permette di fare delle azioni virtuose dal punto di vista della ricerca e dello sviluppo industriale qual è il modello che si oppone in un certo senso o affianca e lo di quello dello sviluppo proprietario ma sostanzialmente io lo faccio coincidere con quelle due parole che vede dal fondo c'è la condivisione e la comunità perché il software libero il mercato del software libero è sostanzialmente lato su un modello economico che passa da una compra vendita tradizionale a una sorta di baratto cioè io metto a disposizione il mio software a te e tu metti a disposizione il tuo software a me e quindi c'è una concetto di comunità che io ritengo sia fondamentale per la crescita collettiva dei sistemi paesi vorrei smentire una diceria che col software libero sostanzialmente non si guadagna si guadagna con altri paradigmi con altri paradigmi industriali al di là di fare tanti discorsi vorrei soffermarmi su un caso qualitativo se voi considerate l'azienda red hat che è quella che distribuisce il software unix il software libero il sistema operativo unix ebbene il suo valore in borsa nel 2018 era di 16 miliardi e questo ha permesso sostanzialmente una crescita di competenza diffusa che è un elemento fondamentale per far sì che ci sia democrazia tecnologica all'interno dei paesi democrazia tecnologica vuol dire che c'è tanta gente che opera in questo settore se prendiamo per esempio la piattaforma che gli strumenti per lo sviluppo software in modo collaborativo che sul force come vedete lì bene ci sono 500 mila progetti che adoperano quel software libero ci sono più di 10 milioni di programmatori e ci sono 4 milioni di download al giorno quindi sono numeri significativi che fanno vedere come da un punto di vista industriale ma anche economico il software libero non sia una nicchia ma che non sia una nicchia lo dice anche una ricerca che è stata fatta in italia su 100 manager dell'information technology dell'informatica su parla appunto 100 aziende bene se noi consideriamo le aziende di medie e grandi dimensioni la il risultato di questa statistica è che il quindi solo il 15 per cento non l'adoperava e il 65 per cento l'adoperava in modo significativo nella pubblica amministrazione l'85 per cento delle aziende intervistate lo adoperava in modo cospicuo la cosa che mi sembra importante è che il 65 per cento degli intervistati dichiarava di adoperarlo in progetti critici quindi non solo in progetti come dire che non hanno impatto significativi sulla sul business dell'azienda ma anche su quelli che sono più significativamente critici quali sono le motivazioni quali erano le motivazioni di questa indagine la prima era il risparmio economico ma la seconda che sta diventando direi la prima è quello che si con il software libero sia maggior innovazione e paradossalmente ricordo quanto diceva il professor meo sulla sicurezza da maggior sicurezza perché blindarsi c'è sempre qualcuno che riesce ad aprire la porta vorrei adesso sottolineare un punto che è significativo e che riguarda il riuso del software perché la condivisione del software è un meccanismo significativo per determinare delle economie di scala rilevanti dal punto di vista del riuso il riuso del software che come ben potete capire è sostanzialmente legato al fatto di poter adoperare qualcosa che qualcuno mi cede e quindi il paradigma di base del software libero il il riuso del software si stima che porti un risparmio in italia tra i 500 e gli 800 milioni per anno è una cifra significativa è una cifra significativa se la confrontiamo con quelli che sono il costo del software della pubblica amministrazione i costi del software della pubblica amministrazione come vedete sono circa un miliardo e mezzo cioè che sono articolati in tre elementi in tre sottosezioni la manutenzione dei sistemi dell'applicazione l'acquisto e realizzazione dell'applicazione e la locazione e il test quindi se confrontate questi valori con i valori del risparmio nel riuso del software vedete che sono cifre comparabili e che quindi il riuso del software ha un valore economico significativo per un paese in sintesi chiudiamo questa questa partita questa facciamo due considerazioni complessive innanzitutto l'uso del software libero permette l'indipendenza dai monopoli tecnologici e quindi permette una democrazia tecnologica che uno degli elementi fondanti per la crescita tecnologica del nostro sistema paese e del del direi del mondo permette quello che io chiamo il soffronismo tecnologico cioè il fatto di avere la possibilità di conoscere le di crearsi le competenze all'interno dei propri paesi e di non essere totalmente dipendenti dai monopoli che esistono terzo la ridistribuzione della ricchezza in numero dei soggetti perché il software libero permette di crescere la cultura e permette alle piccole grandi imprese di avvalendosi di prodotti del software libero di fare operazioni di mercato che sono significative dal punto di vista del business e infine la crescita che potrei dire culturale che è una crescita necessaria soprattutto al nostro paese in cui le competenze tecnologiche dell'information tecnologica sono uno degli aspetti in questo momento che limitano la diffusione del cambiamento attraverso le tecnologie digitali questa diciamo che mi permetto di operare questo un lucido che mi ha dato il professor meo per raccontare come il software libero che sempre è stato visto come un progetto fatto da estremisti stia invece cambiando nell'opinione collettiva e anche industriale steve balmer che è stato l'amministratore delegato di microsoft dal 2008 al 2014 se ben ricordo citava che linus è un cancro brand smith che è l'attuale presidente di microsoft dice forse siamo sul lato sbagliato della storia e forse l'idea di un software più condiviso a livello disorgente a livello di concepimento di concezione è secondo me un concetto si sta diffondendo e che alcune norme e leggi dell'unione europea sicuramente facilita su arduino ha già detto meo e quindi salto vorrei fare un breve chiosa adesso concludendo sull'informatica e l'ambiente se dobbiamo essere sintetici l'informatica impatta sull'ambiente in termini di riduzione di consumi di materie prime la dematerializzazione è sicuramente un elemento che permette di risparmiare tanti alberi dell'amazzonia ma c'è un altro aspetto che io credo sia fondamentale e che si sta passando nel mondo industriale dalla produzione di massa alla produzione dedicata per esempio consideriamo l'agricoltura di precisione che è fondamentalmente legata alle tecnologie digitali l'agricoltura di precisione permette di distribuire sul territorio sulle cui un numero una quantità molto ridotta di pesticide rispetto a una diffusione di massa quanto consuma l'informatica c'è spazio per risparmiare bene teniamo conto che la potenza di calcolo dei data center è cresciuta negli ultimi vent'anni del 550 per cento sostanzialmente dal 1990 ad oggi la potenza di calcolo di computer è cresciuta di un milione di volte però l'energia consumata di data center è salita solo del 6 per cento quindi vuol dire che effettivamente le tecniche digitali di costruzione dei computer sono state orientate anche al risparmio energetico e pensate che i data center impattano per l'un per cento del consumo mondiale di elettricità certamente c'è ancora molto da fare vi porto solo un esempio se noi consideriamo i primi dieci super computer che ci sono nel mondo questi consumano 80 mila kilowatt che sono l'equivalente di 80 megawatt che è il consumo di circa 40 treni ad alta velocità e di circa 26 mila abitazioni quindi spazio ce n'è e voglio essere concreto e chiudo con questo facciamo un calcolo quantitativo un po da ingegnere uno direbbe tipicamente un pc o un server di medie dimensioni di medie potenze consuma 200 watt opera per duemila ore all'anno per un consumo di 400 kilowatt ora se noi consideriamo attivi in questo momento nel mondo 500 milioni di pc di server server piccoli non stiamo parlando di data center il consumo che noi possiamo identificare calcolare è di 200 terawatt ora o se ossia mille miliardi 200 mila miliardi di gigawatt se noi potessimo risparmiare riuscissimo a risparmiare solo il 10 per cento di questa potenza noi di fatto risparmieremmo alcune centrali quindi c'è spazio in questa tecnologia per avere un impatto sull'ambiente ancora migliore e ancora più profitto mi fermo qui grazie dell'attenzione mi mettete le slide così le sfoglio queste cose quindi faccio un focus sulle norme che si applicano al software nella pubblica amministrazione faccio diciamo l'aggiornamento di quel che me ho raccontato la storia di come perché le norme sul software libero nella pubblica amministrazione derivano dal lavoro fatto dalla commissione stanca nel 2002 2003 poi vi racconterò qualcosa su una recentissima sentenza che impatta sul modo molto importante sull'uso di fornitori di servizi in cloud che trasferiscono dati negli stati uniti d'america vi farò un quadro di dove siamo e dove penso si possa andare alcune considerazioni allora le norme che si occupano di software di uso e riuso di software nella pubblica amministrazione sono gli articoli 68 e 69 del cad codice dell'amministrazione digitale decreto legislativo 82 del 2005 l'articolo 68 disciplina l'acquisizione di uso di software da parte della pubblica amministrazione e prevede che qualsiasi pubblica amministrazione prima di acquisire software non solo comprare acquistare ma anche proprio decidere di usare del software anche gratis deve fare una valutazione comparativa nella valutazione comparativa si tiene conto di alcuni elementi la disponibilità di cioè l'idoneità a lavorare con interfacce aperte formati aperti ed altri elementi la valutazione comparativa fatta tra tutte le soluzioni disponibili in mercato e la la norma prevede l'obbligo di preferenza per il software libero quindi se c'è una soluzione in software libero disponibile che soddisfa in maniera adeguata le esigenze della della pubblica amministrazione quella soluzione va preferita la preferenza per il software libero come vi ha raccontato il professor meo è arrivata a un certo punto non c'era dall'inizio è arrivata nel 2012 con una una modifica dell'articolo 68 introdotta con un decreto legge poi convertito in legge e allora gli articoli 68 e 69 del cad sono articoli molto interessanti perché a seguirne la storia si osserva quanta quanta tensione quanto conflitto c'è stato intorno al modo in cui dovevano essere disegnate queste norme e quindi è il tema dell'uso e riuso del software da parte delle pubbliche amministrazioni un tema nel quale c'è stato molto conflitto nel tempo però a un certo punto arriva la preferenza per il software libero nel 2012 e poi resta è stato ammorbidita questa preferenza non è diventata così netta e categorica come era prima però resta un dato indiscutibile del nostro quadro normativo questo processo che ha portato alla preferenza per il software libero è stato un processo lungo e travagliato anche perché intorno a questo si è combattuta una vera e propria battaglia culturale alcuni dicevano in sostanza i rappresentanti di categoria dei produttori di software proprietario che fosse illegittimo fare preferenza per il software libero perché la pubblica amministrazione doveva essere neutrale doveva rispettare il principio di neutralità tecnologica però per fortuna all'esito di processo la corte la corte costituzionale italiana ha stabilito un principio per il quale la preferenza per il software libero è perfettamente legittima e non viola non viola le norme sugli appalti e quindi è perfettamente legittimo fare preferenza per il software libero perché non è una preferenza per una tecnologia è una preferenza per una caratteristica giuridica cioè per una certo tipo di sentenza che deve regolare l'accesso l'uso del software in questione software libero altra norma molto importante è l'articolo 69 che disciplina il riuso del software sviluppato da o per conto di una pubblica amministrazione l'articolo 69 dice che le pubbliche amministrazioni devono consentire il riuso del software di cui detengano i diritti sostanzialmente questa norma ha subito un'interessante evoluzione perché il riuso è già stabilito come modalità di condivisione del software tra diverse pubbliche amministrazioni sin dal 2005 quindi sin da quando è uscito il codice dell'amministrazione digitale però non ha mai funzionato tanto perché perché era un riuso ho fatto era un riuso tra pubbliche amministrazioni con protocolli convenzioni condizioni barocche costruite ad hoc caso per caso la cosa interessante è stata la modifica che è stata introdotta nel 2016 quando in una delle molte modifiche degli articoli 68 e 69 del cad più in generale si è stabilito che due cose importanti primo che il riuso non era solo per altre pubbliche amministrazioni ma anche per altri soggetti giuridici quindi per chiunque dunque ha il diritto di chi per voglio il vostro software voglio poterlo riutilizzare seconda cosa molto importante il l'articolo 69 oggi prevede che il riuso non si fa come così inventando dei protocolli delle condizioni di licenza si fa in un modo molto semplice licenziando il software con licenza di software libero quindi le pubbliche amministrazioni devono distribuire il software che sviluppano con una licenza di software libero da scegliersi con un certo modo distribuendolo usando repository aperti ecco qui vado avanti di una slide vabbè dopo ve lo dico cioè lo dico adesso perché ne parla adesso in attuazione gli articoli 68 e 69 come vanno diciamo come si adempia gli obblighi previsti in articoli 68 e 69 ce lo dicono delle linee guida che sono state pubblicate da agid nel 2019 e che sono molto attente molto precise ti dicono come scegliere la licenza di software libero ti dicono come fare la valutazione comparativa in modo che sia data effettiva preferenza per il software libero ti dicono che licenza scegliere come pubblicare il software usando dei sistemi di controllo delle versioni dei repository di pubblicazione del software che hanno certe caratteristiche che sono in sostanza quelle delle comunità di software libero si usano le stesse modalità le stesse cose che si usano nelle comunità di software libero questo è stato un passaggio culturale molto importante oggi c'è un sito previsto dalle linee guida che si chiama developers developers italia nel quale è disponibile il software pubblicato dalle diverse pubbliche amministrazioni se siete interessati vi consiglio di andarlo a guardare un'altra cosa molto importante presso agide è attivo un centro di competenza sul riuso il software open source che favorisce la costruzione di cultura e competenza metti in comunicazione le pubbliche amministrazioni che si muovono in questa direzione le aiuta ora negli ultimi mesi si stanno costituendo centri di competenza territoriali ce n'è uno in regione piemonte ce ne sono altri in italia che si stanno organizzando si sta creando una rete di centri di competenza che aiutano le pubbliche amministrazioni a scegliere acquisire software quindi preferendo software libero e distribuire software con licenza libera perché la distribuzione di software libero richiede competenze non è una cosa che si fa al volo bisogna saperlo fare ci vuole cultura di lavoro la cultura delle comunità di lavoro sul software libero altra cosa molto importante che mi permetto di segnalare è attivo e previsto nel cad da da qualche anno una figura che è alla quale è utile rivolgersi se si vede che qualcosa non va come dovrebbe rispetto al alla all'acquisizione di uso di software libero c'è il difensore civico per il digitale presso agi dal quale si possono fare segnalazioni e che è oggettivamente molto attento al tema e al rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 68 e 69 del card allora dove siamo dove siamo in italia rispetto all'estero allora due dati che trovo molto interessante la preferenza per il software libero è arrivata da noi in italia nel 2012 siamo stati il primo paese ad avere una norma di livello centrale nazionale che stabilisce una preferenza per il software libero altri casi ci sono ma primi siamo stato il nostro codice dell'amministrazione digitale l'obbligo di distribuire software libero qua io non so dire penso sia arrivata leggermente prima la norma bulgara ecco però nello stesso anno in bulgaria in italia primi paesi a prevedere norme nazionali che fanno preferenza per il software libero allora è molto interessante quello che sta succedendo proprio in questi mesi a livello di commissione europea è stato pubblicato poco una ventina di giorni fa documento la open source software strategy che è molto è un stabilisce da delle indicazioni molto precise c'è un movimento ampio che vede molti paesi in particolare l'unione europea muoversi nella direzione del software libero sono state pubblicate da pochi giorni le linee guida per creare comunità di software libero sostenibili nella pubblica amministrazione la sentenza schrems 2 è una cosa che è successa pochi 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 mesi fa e che ha cambiato lo scenario la sentenza ha stabilito una nullità degli schemi di adeguatezza del trasferimento di dati negli stati uniti d'america il privacy sheet oggi è nullo e gli altri meccanismi di trasferimento di dati verso gli stati uniti d'america richiedono l'attuazione di misure supplementari e forse anche il trattamento di dati in europa richiede attenzione quindi le norme sulla privacy le dpb le il garante della gruppo dei garanti della privacy ha pubblicato pochi giorni fa quali sono queste misure supplementari sostanza le norme sulla privacy inducono a considerare con attenzione l'opportunità di preferire che i dati stiano in europa nelle mani di imprese europee quindi allora alla domanda quali siano cosa manca nelle norme che la sollecitazione che mi aveva fatto il professor meo allora io direi che alcuni criteri che c'erano già nella famosa direttiva stanca del 2003 quella che seguì al lavoro della commissione stanca secondo me andrebbero recuperati perché oggi nell'articolo 68 manca per esempio il criterio della considerazione del minor costo di uscita da una soluzione software libero c'è il costo total cost of ownership manca il costo di uscita da una soluzione che andrebbe considerato criteri che anche c'erano nelle nelle linee guida che andrebbero recuperati la valorizzazione delle competenze l'indipendenza da un unico fornitore altra cosa che ritengo utile valorizzare stabilendo idoni meccanismi e meccanismi che favoriscono la mutualizzazione dei costi gli investimenti congiunti tra diverse pubbliche amministrazioni per favorire lo sviluppo di software libero da parte delle pubbliche amministrazioni c'è poi il tema delle sanzioni molti dicono che il problema sia la mancanza di sanzioni io penso di no perché le norme ci sono già c'è la corte dei conti che nel caso in cui si omette una valutazione comparativa può essere sollecitata perché se non si fa una valutazione comparativa si spendono soldi per software proprietario quando c'è una soluzione alternativa il software libero forse c'è danno erariale mancano ancora delle pronunce però una linea di lavoro da perseguire poi c'è il tema della degli incentivi che sono già previsti delle norme concludo dicendo che le norme ci sono potrebbero essere migliori si potrebbero migliorare ma quel che va fatto è costruire una nuova pubblica amministrazione e mi sembra che ci si stia muovendo in questa direzione la quale la cultura del software libero le competenze del di sviluppo in software libero e modelli organizzativi che favoriscono nella pubblica amministrazione e con la pubblica amministrazione lo sviluppo di software libero vanno perseguite le parole chiavi quindi riprendo cose già dette libertà collaborazione e sovranità digitale finito spero in tempo allora vedo che c'è una domanda non so se abbiamo ancora tempo se c'è una domanda che vi leggo didattica a distanza la scuola dove lavora ha deciso di utilizzare google classroom meet drive google documenti gratuito perché abbiamo licenza base gratuita ma il software non è open source dal sono gestiti a google non c'è rischio di fare pubblicità enorme gratuitamente a pubblicità a parte la domanda da farsi e se sia legittimo acquisire una soluzione tecnologica senza aver fatto la valutazione comparativa e se è importante anche verificare il rispetto delle delle norme sulla privacy quindi vi invito a ci sono già delle iniziative attive in molte comunità vi invito a sollecitare i vostri dirigenti e chiedere la verifica del fatto che si sia fatta valutazione comparativa e che i dati siano trattati nel rispetto delle norme sulla privacy se c'è un'altra domanda non so se facciamo ancora in tempo stiamo sporando il piano triennale di agit prevede come principio informatori cloud first numerose pia italiana hanno scelto fornitori usa che sono certificati come adatti da agi stessa come si concilia questo con l'abolizione di schrems 2 anche questa mi sembra una domanda rivolta a me non vi rompo le scatole professori come si concilia non lo so questo è un tema sul quale sarà necessario una riflessione anche da parte di agite degli e delle altre e delle degli altri enti preposti al coordinamento delle scelte delle pubbliche amministrazioni il cloud first se i dati sono gestiti da da enti controllati dalla pubblica amministrazione o comunque da aziende europee dovrebbe dare meno problemi quindi il tema merita una approfondita riflessione se non ci sono altre domande io vi ringrazio abbiamo sporato di due minuti mi avevano chiesto di essere puntualissimo e quindi saluto il professor meo saluto professor mezzalama e vi ringrazio e grazie a chi ci ha seguito grazie a tutti grazie grazie a tutti arrivederci arrivederci